Grazie Presidente, anche in questo caso utilizzerò molto meno dei tre minuti a mia disposizione semplicemente per dire che il lavoro che anche la Commissione sta portando avanti per l'espressione di parere sulle proposte di delibera per i riconoscimenti debili fuori bilancio è in linea con quello che ci siamo precisati nell'anno, cioè quello di ridurre il più possibile, nel più breve tempo possibile, anche con la collaborazione degli uffici, il riconoscimento di cifre che importi che sia cittadini oppure piccole aziende, aziende dell'area romana avanzano dal Comune di Roma e che spesso sono preziose proprio per continuare a poter operare. Sono delibere anche molto vecchie nel tempo e siamo contenti che finalmente venga data una risposta a queste esigenze per cui ringrazio anche il lavoro di tutti i commissari della Commissione. Ovviamente farò un unico intervento anche sulla prossima delibera per annunciare il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle. Grazie.